L'Estonia ci spera prima possibile, Monsignor Profitlich potrebbe essere il suo primo beato e poi santo. Intanto nella cattedrale di Tallin, una lapide mostrata al Papa in visita là a settembre scorso lo ricorda così. Il Papa mi ha detto che lui è stato martire, se gli ho detto sì, 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 perché è stato condenato a morte fra l'altro. Dunque mi ha detto santo subito. Vescovo di Tallin durante la seconda guerra mondiale tedesco d'origine sarebbe potuto espatriare anziché condividere la sorte del popolo estone. L'invasione sovietica, guerra, fame, persecuzione feroce della piccola chiesa cattolica. Spia del Vaticano fu la rituale accusa con cui il Kegebe lo spedì in Siberia. Condannato a morte si spense per freddo, fame e malattie prima della fucilazione. La tomba è probabile, è una fossa comune, chissà dove. Abbiamo lavorato 16 anni, non è così un'improvvisazione. Sarebbe un onore per tutta l'Estonia, dice il successore, venuto appunto a portare a Roma gli atti della fase diocesana della causa. Ma l'intento non è, sottolinea, dar fiato al nazionalismo ostile ai russi, nemici di allora. Ma di sottolineare questo sì, la crudeltà di un sistema.